Non voi avete scelto me, ma io, dice Gesù, ho scelto voi. Ma perché? Perché non siamo noi che decidiamo la vita. La vita la decide l'eterno. E così, gli amici che avete conosciuto, sono per voi una corona oggi di gioia, di festa, di balli, di tutto quello che farete. Ma perché c'è un concetto di fondo dentro di voi che sarete umili per sempre. Per sempre io sarò con te e tu sarai con me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.